Dimmi. Hai paura? No, perché? Guido, se lasciassimo stare non ci pensassimo più. E poi? Anche tu dicevi che non si può continuare così. Sì, ma... Ma? Poco fa la tua voce era così triste. Se credi che mi faccia piacere. E allora non farlo. E invece lei mi ha detto, peccato, e che si credeva che avessi fatto l'università. Ma? Poi mi ha detto, avere il fisico non basta. Ti devi coltivare, istruire, devi leggere, cercate parla meglio. Poi ha detto alla direttrice, la porti da Attilio a fare il bagno. Il bagno? Io gli volevo dire che ero più pulita di lei. E che se crede, che la garbatella non ce l'avamo noi. Hai fatto bene. Io che pensavo all'amore eterno. E lui che voleva solo l'avventura con l'attrice. E l'ha avuta. Bevi un po' di vino e versene anche a me. Ora sto benissimo, grazie. Mi fa piacere. Reginella me l'ha sempre permesso. E mo' vengono quei due cafoni e mi cacciano dalla terra mia, con le mie capre. Ho capito. Ma il mondo va avanti. Il terreno non è più mio. Anche se volessi, non saprei come aiutarla. Au revoir. Grazie. Grazie.